... ... ... ... ... Diventi padrino di battesimo del figlio di un certo L'ambroso Anselmini sposato con una donna di nuova vita. Siete. 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 Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Aspetta qui, eh? Aspetta qui, eh? Aspetta, aspetta. Allora, zero, zero, cinquanta, più o meno qua. Eccolo. Eccolo. Uno scogliattolo. Alle zero, zero, quarantadue e cinquanta secondi. Ecco, guarda, 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 adesso lo zoomo, adesso lo zoomo e ovviamente le telecamere di questo tipo non vedono quasi niente, se non gli occhi. Guarda qua, guarda, 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 guarda che coda che ha, guarda che coda che ha, più coda che il resto. E questo pallino qui al posto, guarda, questo pallino da occhio, guarda l'occhio. Con la telecamere infrarossi, guarda, 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 si muore. va a ver si può andare iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.